ma vedi sbagliamo vai vai qua dovresti fare la seconda clip dani madonna il caramaggio ciò da quant'è che non lo portavo di che da play 3 ero da play 3 che non gli facevo fare un giro aspetta seba che sto facendo una cosa facciamolo divertire visto che da qualche annetto ormai che non si diverte più le altre volte nel mondo mi ha mandato sul tavolicio mamma libero sei stappato ti sei lavato le mani bravo adesso portamolo a pisciare allora mamma mia ma cosa viene a fare o guardone guardalo proprio proprio fiero lui è mincega guardalo